Ogni strumento a cura di Laura Nova. Entità Michelle attraverso Francesca, cerchio.f, incontro dell'8 ottobre 2022. Domanda. Ogni strumento permette dei passaggi vibrazionali a seconda delle capacità che ha. Più lo strumento si trasforma e riesce a cambiare ed andare avanti nel percorso della propria esistenza, più dà possibilità a noi di passare informazioni di grado diverso. Ovviamente ha ancora delle limitazioni verbali, per cui dobbiamo ancora non comunicare direttamente, ma utilizzare il corpo dello strumento per comunicare con voi. Quindi abbiamo delle volte delle difficoltà di linguaggio nell'esatta correttezza del significato del vocabolo che utilizziamo. Potremmo usare dei vocaboli molto più precisi, molto più, diciamo, eruditi, ma dobbiamo piano piano portare lo strumento a permetterci di avere questo accesso. Prendere il faccio. Grazie a tutti